Fino a ottobre e la giornata promette molto bene, Bormio è la partenza, si scende utilizzando il sentiero Valtellina, la ciclabile, tra la ciclabile, fino a Grosio, a Grosio inizia la Valgrosina, una salita di 18 chilometri, sempre abbastanza graduale e si arriva fino ai 2300 del passo di verva, lì alla sommità e inizierà la discesa, la discesa che incrocia la Valviola, Valviola che percorrerò fino ad Arnoga, dopodiché Arnoga inizia la Decoville, una strada pianeggiante lungo una decina di chilometri che ci riporta a Bormio, lei mi aspetta e via, si parte! Grazie a tutti! Bellissimo questo laghetto, manca poco, alè, ci siamo quasi! Grazie a tutti! Eccoci a passo d'erba! Bellissimo! Grazie a tutti! Bellissimo! 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 Bellissimo!